Salve, io sono Rosario Sagliano e sono un sarto, un sarto da tre generazioni. Bego da Napoli ed ho una bottega a Firenze, in Borgo San Frediano. Sarò qui periodicamente per presentare le varie collezioni di tessuti pregiati italiani e inglesi e perché no, magari conoscere più persone possibili per poter instaurare un rapporto di lavoro che può continuare anche nel tempo. Grazie.